Giovedì 1 ottobre si svolgerà un altro dei nostri appuntamenti. Nostri parlo dell'Accademia Vitruvio Fanum. Chi ci ha seguiti in questi anni è stato spesso presente ai nostri appuntamenti. Li ricordo brevemente, brevissimamente. C'è stato Luigi Magni, c'è stato Vito Mancuso, c'è stato Alessandro Meluzzi, padre Barbang. Quest'anno il tema sarà sul viaggio nel labirinto della conoscenza e sarà una serata filosofica, musicale e letteraria. L'appuntamento è alle 21, presso la Pinacoteca San Domenico. I relatori saranno la dottoressa Maria Chiara Mazzi, docente di storia della musica al Conservatorio Rossini di Pesaro, la dottoressa Lucrezia Ercoli, filosofa dell'Università Torvergata di Roma. Al pianoforte il maestro Lorenzo Bavai eseguirà brani di Schubert, Schumann, Litz, Bach e Mozart. Io credo che sarà una bella serata, suggestiva, sia per l'argomento, sia per la musica, sia soprattutto per l'ambiente, che è veramente uno dei gioielli della nostra città. Grazie.